Capitolo 9 Come conseguenza degli avvenimenti della serata, l'infelicità di Catherine aumentò nel modo seguente. Dapprima comparve sotto forma di un'insofferenza generale verso chiunque le stesse vicino, mentre era ancora nella sala da ballo, e questo rapidamente la portò a sentirsi terribilmente stanche e desiderare violentemente di andare a casa. Arrivati a Pulteney Street, questo stato d'animo si trasformò in una fama straordinaria e questa, una volta placata, diede luogo ad un ardente desiderio di mettersi a letto. Questa fase rappresentò il culmine dell'angoscia di Catherine, infatti una volta, sotto le coperte, cadde immediatamente in un sonno profondo che durò nove ore e dal quale si svegliò perfettamente ripresa di ottimo umore con nuove speranze e nuovi piani. Ciò che il cuore le dettava era prima di tutto di migliorare la conoscenza della signorina Tilney e perciò la decisione di cercarla a mezzogiorno nella pump room fu quasi il suo primo pensiero. Infatti non si poteva fare a meno di incontrare nella pump room chi fosse arrivato a Bath tanto di recente e quell'edificio si era già dimostrato per Catherine così propizio alla scoperta di donne superiori, così ideale per diventare amiche intime, mirabilmente adatto ai discorsi segreti e alle confidenze più totali che lei si sentiva autorizzata ad aspettarsi di trovare un'altra amica all'interno di quelle mura. Stabilito dunque il programma della mattinata, dopo colazione Catherine si mise tranquillamente a leggere, decisa a restarsene nello stesso luogo e a dedicarsi alla stessa occupazione finché l'orologio non avesse suonato l'una. Grazie all'abitudine non la disturbavano affatto i commenti e le improvvise esclamazioni della signora Allen, il cui ozio mentale e incapacità di riflessione erano tali che se non parlava mai molto non poteva nemmeno mai starsene completamente zitta. E allora, quando sedeva con il suo lavoro, se perdeva l'ago e le si rompeva il filo, se sentiva una carrozza passare per la strada o vedeva una macchia sul suo vestito, doveva dirlo ad alta voce, che ci fosse o meno qualcuno in grado di risponderle. Alle dodici e mezzo circa, un bossare deciso la fece avvicinare in fretta alla finestra e lei ebbe appena il tempo di informare Catherine che c'erano due carrozze aperte davanti alla porta, una occupata solo da un servitore e l'altra guidata dal fratello di Catherine, accompagnato dalla signorina Thorpe e da John Thorpe che già saliva le scale correndo e gridando ebbene signorina Morland eccomi qui, vi ho fatto aspettare molto? Non siamo potuti arrivare prima, quel vecchio diavolo di un carrozzaio ci ha messo un'eternità a trovare un trabicolo che potesse andare e ora diecimila uno che si capovolgeranno prima che usciamo da questa strada. Oh come state signor Allen, gran ballo ieri sera vero? Avanti signorina Morland, sbrigatevi, gli altri hanno una gran fretta di partire, vogliono farselo subito il loro capitombolo. Che cosa volete dire? Disse Catherine, dove state andando? Dove stiamo andando? Non avrete dimenticato il nostro appuntamento? Non eravamo d'accordo di fare un giro insieme stamattina? Che test avete? Stiamo andando a Cleverton Down? Beh, ricordo che è stato detto qualcosa del genere, disse Catherine guardando la signora Allen in attesa della sua opinione. Ma veramente non vi aspettavo? Non mi aspettavate? Ah, questa è buona, chissà che chiasso avreste fatto se non fossi venuto. Intanto il silenzioso appello di Catherine all'amica fu del tutto gettato al vento, poiché la signora Allen, che non aveva affatto l'abitudine di esprimersi con uno sguardo, era completamente ignara che altri potessero farlo e Catherine, il cui desiderio di rivedere la signorina Tilney non era così forte da non sopportare un breve ritardo in favore di un giro in carrozza e che non pensava ci fosse niente di sconveniente nell'andare con il signor Thorpe, dato che Isabella contemporaneamente era con James, fu quindi obbligata a parlare più chiaramente. Ebbene, signora, che ne dite? Potete fare a meno di me per un'ora o due, posso andare? Oh, fa come desideri, mia cara, replicò la signora Allen con la più placida indifferenza. Catherine accettò il consiglio e corse a prepararsi. In un attimo riapparve, mentre gli altri due avevano appena avuto il tempo di scambiare un paio di frasi in sua lode. Non prima che Thorpe avesse stimolato l'ammirazione della signora Allen per il suo calesse e quindi, ricevuto l'augurio di una buona gita da parte dell'amica, si affrettarono entrambi a scendere. Tesoro mio, gridò Isabella, richiamando Catherine a sé in nome dei doveri dell'amicizia, prima che potesse salire in carrozza. Ci hai messo almeno tre ore a prepararti, temevo che fossi ammalata. Oh, che ballo delizioso, ieri sera ho mille cose da dirti, ma sbrigati a salire perché non vedo l'ora di partire. Catherine eseguì i suoi ordini e si lontanò, ma non così in fretta da non sentire l'amica che ad alta voce esclamava, rivolta a James, com'è dolce quella ragazza, io l'adoro. Non dovete spaventarvi, signorina Morland, disse Thorpe mentre la aiutava a salire, se il mio cavallo ballerà un po' alla partenza. È probabile che darà un paio di scossoni e forse si sfogherà per qualche minuto, ma capirà presto chi è il padrone. È pieno di temperamento, gli piace divertirsi, ma non è cattivo. Catherine non trovò molto invitante questo ritratto, ma era troppo tardi per tornare indietro e lei era troppo giovane per permettere a se stessa di mostrarsi spaventata, così rassegnandosi al proprio destino e confidando nella tanto vantata consapevolezza dell'animale di chi fosse il padrone, sedete con calma con il signor Thorpe vicino a lei. E dato che tutto era sistemato, all'inserviente che era accanto al cavallo fu intimato con un tono solenne di lasciarlo andare ed essi partirono, all'andatura più quieta che si possa immaginare, senza uno scossone né un soprassalto né niente del genere. Catherine, felice di una via di uscita così gradevole, espresse ad alta voce la sua gioia, mista a una sorpresa piena di gratitudine. E il suo compagno immediatamente spiegò la faccenda nel modo più semplice, assicurandole che quel comportamento era interamente dovuto al modo particolarmente abile con cui egli aveva tenuto le redini e al discernimento e alla destrezza singolare con i quali aveva manovrato la frusta. Catherine, benché non potesse fare a meno di meravigliarsi che con un controllo così perfetto del suo cavallo egli avesse ritenuto necessario metterla sull'avviso, riferendole quali erano i vizi dell'animale, si congratulò sinceramente con se stessa per la sua fortuna, dato che era affidata alle mani di un cocchiere di simile bravura, e quando si rese conto che l'animale continuava a procedere nel modo più quieto, senza mostrarsi minimamente propenso a una vivacità pericolosa, e che, considerando che la sua velocità media era inevitabilmente di 10 miglia l'ora, la sua andatura non aveva niente di preoccupante, Catherine si abbandonò al piacere di godersi l'aria e l'esercizio fisico. Più che mai corroboranti, in una bella e mite giornata di febbraio, ormai consapevole di potersi considerare pienamente al sicuro. Al primo breve dialogo tra i due seguì un silenzio di diversi minuti, bruscamente rotto da Sorp, che disse, il vecchio Allen è ricco come un ebreo, vero? Catherine non capì, e lui ripetè la domanda aggiungendo a mo' di spiegazione, il vecchio Allen, l'uomo con cui siete venuta qui. Oh, intendete il signor Allen? Sì, credo che sia molto ricco. E non ha figli? No, nessuno. Un bel affare per i suoi eredi, è il vostro padrino, vero? Il mio padrino? Oh no. Ma voi state sempre molto con loro? Oh sì, molto. Appunto, è quello che intendevo. Sembra un buon vecchio, direi che deve essersela spassata ai suoi tempi. Non per niente alla gotta. Se la beve la sua bottiglia al giorno, eh? La sua bottiglia al giorno? Ma no, come vi è venuta in mente una cosa del genere? È un uomo molto sobrio, non penserete che ieri sera fosse ubriaco, vero? Oh, Dio ci aiuti. Voi donne pensate che gli uomini si ubriachino sempre. Credete che basti una bottiglia per stendere un uomo? C'è una cosa di cui sono sicuro. Che se ognuno si bevesse la sua bottiglia giornaliera al mondo non ci sarebbe la metà dei guai che ci sono adesso. Sarebbe davvero un buon affare per tutti noi. Oh, non posso crederlo. Santo Iddio, sarebbe la salvezza di migliaia di persone. In questo paese si consuma la ventesima parte del vino che si dovrebbe consumare. Con tutta la nebbia che abbiamo, dobbiamo tenerci su. Eppure ho sentito dire che si beve molto porto a Oxford. Oxford? Vi assicuro che oggi a Oxford non si beve proprio. Nessuno beve. Vi sarebbe difficile incontrare un uomo che superi al massimo le quattro pinte. Dopo l'ultima festa che ho dato nelle mie stanze, per esempio, è stato commentato come un fatto eccezionale che ci siamo scolati in media cinque pinte a testa. Lo hanno considerato un fenomeno fuori dal comune. La roba che offro io è roba buona, questo è certo. Vi sarebbe molto difficile trovare qualcosa di simile a Oxford e questa potrebbe essere la spiegazione. Questo è tanto per darvi un'idea di quanto si beve a Oxford. Oh sì, disse Catherine con enfasi, posso farmi un'idea ed è che bevete tutti molto più vino di quanto pensassi. comunque sono sicura che James non beve tanto. Questa dichiarazione provocò una replica di violente e clamorose proteste di cui niente era molto chiaro tranne le frequenti esclamazioni consistenti quasi unicamente in imprecazioni di cui era disseminata. E quando finalmente Thorpe tacque l'opinione di Catherine che a Oxford si bevesse troppo vino, ne uscì più che mai rafforzata insieme con la più consolante convinzione circa la relativa sobrietà del fratello. I pensieri di Thorpe si rivolsero allora completamente ai meriti della sua vettura e lei fu invitata ad ammirare la grinta e la scioltezza con cui procedeva il cavallo. E l'elasticità che il suo passo insieme all'ottima qualità delle sospensioni del veicolo davano al movimento della carrozza. Lei cercò di assecondare per quanto potè e il suo compiacimento. Precederlo o superarlo era impossibile e lo impedivano la padronanza che lui aveva dell'argomento mentre Catherine non se ne intendeva affatto. La sua prontezza di espressione e la stessa timidezza di lei non riuscì dunque a escogitare nessuna nuova lode ma fece eco obbediente a qualsiasi cosa gli volesse asserire e infine stabilirono di comune accordo senza nessuna difficoltà che nel suo genere la vettura era senz'altro la più perfetta d'Inghilterra. Il suo calesse è il più elegante il suo cavallo il migliore ad assolvere il suo compito e lui stesso il cocchiere più abile. Non credete sul serio signor Thorpe disse Catherine dopo un po' azzardandosi a considerare ormai definita la questione e quindi a offrire una piccola variazione al tema della conversazione che il calesse di James si romperà? Rompersi? Santo iddio avete mai visto niente di più traballante in vita vostra? Non possiede un solo pezzo di ferro intatto le ruote sono ormai consumate saranno almeno di dieci anni fa la carrozzeria poi vi giuro che potreste mandarla in pezzi voi stessa toccando la pena è il trabicolo più maledettamente sgangherato che abbia mai visto. Grazie a Dio noi ne abbiamo uno migliore non accetterei di percorrere due miglia in quel coso nemmeno per 50.000 sterline. Oh santo cielo gridò Catherine davvero spaventata ma allora vi prego torniamo subito indietro signor Thorpe avranno sicuramente un incidente se ci spingiamo oltre torniamo indietro vi prego per piacere fermatevi e parlate a mio fratello ditegli quanto è insicuro il calesse. Insicuro? Oh santi Dio e che succederà mai se si rompe faranno solo un ruzzolone e poi c'è un sacco di fango in giro è ottimo per caderci e poi al diavolo è un calesse abbastanza sicuro per uno che lo sa guidare anche consumato un coso del genere può durare più di vent'anni in buone mani che Dio vi benedica per cinque sterline io lo guiderei fino a York e ritorno senza perdere un chiodo e Catherine ascoltava stupita non sapeva come conciliare due descrizioni così diverse della stessa cosa infatti nessuno le aveva mai detto come sono fatti i chiacchieroni né a quante sciocchezze a quante bugie sfacciate possa portare la troppa vanità i suoi erano gente semplice che raramente cercava di fare dello spirito il padre al massimo si accontentava di un gioco di parole e la madre di un proverbio quindi non avevano affatto l'abitudine di dire bugie per aumentare la propria importanza o di affermare qualcosa e sostenere il contrario il momento dopo molto perplessa riflette per un po sulla faccenda e più di una volta fu sul punto di chiedere al signor Thorpe di illuminarla più chiaramente circa la sua vera opinione sull'argomento ma si trattenne poiché le sembrò che fornire chiarimenti non facesse parte delle sue doti e neppure dire con semplicità quello che aveva espresso prima in modo ambiguo d'altronde riflette che dopo tutto Thorpe non avrebbe permesso davvero che sua sorella e l'amico fossero esposti a un pericolo che egli avrebbe facilmente potuto evitare e concluse quindi che evidentemente il calessera perfettamente sicuro e smise di preoccuparsi da parte di Thorpe l'intera faccenda sembrava completamente dimenticata e tutto il resto della sua conversazione o meglio delle sue chiacchiere ebbe come unico tema esclusivamente se stesso e ciò che lo riguardava le raccontò di cavalli che aveva comprato per una sciocchezza e venduto per somme incredibili di corse in cui il suo discernimento aveva infallibilmente previsto il vincitore di partite di caccia in cui egli aveva ucciso più uccelli pur senza un solo buon colpo di tutti i suoi compagni messi insieme e le descrisse alcune straordinarie giornate di caccia alla volpe in cui la sua preveggenza e l'abilità nel dirigeri cani avevano riparato agli errori dei cacciatori più esperti e in cui la temerarietà del suo modo di cavalcare pur senza mettere mai in pericolo per un momento la sua vita aveva costantemente messo in difficoltà agli altri cosa che egli concluse con calma aveva fatto rompere l'osso del collo a molti per quanto catherine non avesse l'abitudine di formulare dei giudizi suoi personali e per quanto vaghe fossero le sue idee generali su come gli uomini dovrebbero essere mentre sopportava la manifestazione della presunzione senza limiti di thorpe non poté scacciare del tutto il dubbio che tutto sommato egli non fosse così simpatico era una supposizione audace poiché era il fratello di Isabella e James le aveva assicurato che i suoi modi lo rendevano gradito a tutte quelle del suo sesso ma nonostante questo l'estrema noia della sua compagnia che la sopraffece dopo meno di un'ora e che continuò senza sosta a crescere finché non furono di ritorno a Paltney street l'aiutò a resistere seppure in piccola misura a quell'autorità superiore e a rimanere scettica di fronte alle sue possibilità di dispensare piacere universale quando arrivarono alla porta della signora Allen inesprimibile fu lo stupore di Isabella nel rendersi conto che era troppo tardi per poter passare un po di tempo con l'amica le tre passate era inconcepibile incredibile impossibile non poteva credere al suo orologio né a quello del servitore non poteva credere a chi le assicurava che le cose stavano proprio così basandosi sul buonsenso sulla realtà dei fatti finché Morland non esibì il suo orologio e accettò la cosa a questo punto dubitare un momento di più sarebbe stato ugualmente inconcepibile incredibile impossibile e lei pote solo protestare più e più volte che mai prima di allora due ore e mezzo erano volate in quel modo cosa che Catherine fu invitata a confermare Catherine non avrebbe voluto dire una bugia nemmeno per far piacere a Isabella ma a quest'ultima fu risparmiata la disgrazia di dover sentire la voce dissenziente dell'amica dato che non aspettò la risposta i suoi stessi sentimenti la assorbivano completamente la sua infelicità era troppo grande ora che si rendeva conto di dover andare direttamente a casa erano secoli che non godeva di un momento di conversazione con la sua carissima Catherine e benché avesse migliaia di cose da dirle sembrava che non dovessero mai riuscire a stare di nuovo insieme così con sorrisi che esprimevano la sofferenza più squisita e con lo sguardo ridente dello sconforto completo salutò l'amica e se ne andò Catherine trovò che la signora Allen era appena rientrata dopo un'indaffarata mattina trascorso a far niente e fu immediatamente accolta con un bene mia cara eccoti qui una verità che non aveva gran desiderio né possibilità di mettere in discussione hai fatto una bella passeggiata spero sì signora grazie non avrebbe potuto essere una giornata più bella così ha detto la signora Thorpe era felicissima che foste usciti tutti insieme sì non appena siete usciti sono andata alla pump room e l'ho incontrata e abbiamo chiacchierato a lungo mi ha detto che non si trovava carne di vitello stamattina al mercato è strano che ce ne sia tanto poca in giro avete visto nessun altro di nostra conoscenza oh sì tutte e due avevamo voglia di fare un giro al crescent e là abbiamo incontrato la signora Hughes e il signore la signorina Tilni che passeggiavano con lei davvero e vi hanno parlato sì insieme abbiamo passeggiato al crescent per una mezz'ora mi sembravano gente molto simpatica la signorina Tilni indossava una mussola fantasia molto carina e penso da quanto ho sentito dire che vesta sempre con grande eleganza la signora Hughes mi ha parlato molto della famiglia oh e cosa vi ha detto di loro oh davvero moltissimo praticamente non ha parlato d'altro oh e vi ha detto da quale parte del Gloucestershire provengano sì ma in questo momento non me ne ricordo comunque sono un'ottima famiglia e molto ricchi da signorina la signora Tilni era una drammond e lei e la signora Hughes erano compagni di scuola e la signorina drammond possedeva una fortuna notevole e quando si sposò il padre le diede 20.000 sterline e 5.000 per comprarsi il corredo la signora Hughes vide tutto il corredo appena acquistato dal magazzino e i signori Tilni sono a Bath sì credo di sì ma non ne sono certa adesso che mi ricordo però mi pare che siano morti tutti e due o perlomeno la madre sì 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 sono sicura che la signora Tilni è morta perché la signora Hughes mi ha detto che c'era una bellissima parure di perle che il signor drammond diede alla figlia il giorno del matrimonio e che ora ha la signorina Tilni perché è stata messa da parte per lei il giorno che la madre morì e il signor Tilni il mio cavaliere è l'unico figlio maschio non posso esserne sicura mia cara direi di sì ma comunque uno splendido giovanotto e senza dubbio si farà strada catherine non fece altre domande aveva ascoltato abbastanza per capire che la signora allen non aveva delle vere e proprie notizie da fornirle e che era stata davvero particolarmente sfortunata a perdere quell'incontro con fratello e sorella se avesse potuto prevedere una simile circostanza niente l'avrebbe indotta a uscire con gli altri in calesse ma da come stavano le cose poteva solo lamentarsi mentalmente della sua sfortuna e ripensare a quello che aveva perduto finché si rese conto chiaramente che la passeggiata non era stata affatto piacevole e che lo stesso john thorpera decisamente antipatico